E' un terzetto di ricercatori ad essere premiato con il Nobel per la Fisica 2016. L'annuncio è stato fatto da Goran Hansson dell'Accademia Reale Svedese delle Scienze. L'Accademia, ha detto, ha deciso di conferire il Nobel per la Fisica a David Thauless, Duncan Haldane e Michael Kosterlitz per le loro scoperte sui passaggi che avvengono da uno stato all'altro della materia. Il premio va dunque alla scoperta dell'aspetto esotico della materia, ovvero dei passaggi che avvengono da uno stato all'altro della materia in condizioni inusuali. Questi studi condurranno alla scoperta di nuovi materiali, fra cui quelli per la superconduttività ad alta temperatura. Il Nobel per la Fisica comprende un premio in denaro di circa 833.000 euro, metà spetta a Thauless, l'altra metà a Haldane e Kosterlitz. Grazie.